Io sono Cecilia Oliva, sono il responsabile dell'ufficio ICE di Madrid, dell'agenzia ICE e abbiamo deciso di partecipare al Web Summit perché riteniamo che sia una delle manifestazioni principali del settore e l'unico modo forse per far partecipare, per far prendere parte a questo tipo di manifestazione è le start-up italiane, quindi siamo noi con i fondi del ministero che affettiamo l'area, organizziamo tutto quanto e diamo la possibilità in questo caso a 24 start-up che sono state selezionate da noi in collaborazione con il Web Summit di poter partecipare e incontrare investitori, altre start-up e il mondo dell'innovazione.